Ben ritrovati alla regola della sostenibilità come ogni lunedì in compagnia di Fra Italo Sant'Agostino. E' Tonio Ogello, buongiorno a tutti e benvenuti nel primo lunedì dopo la Pentecoste in cui ci ricordiamo nascere la Chiesa sotto la protezione di Maria oggi venerata come madre della Chiesa. Che bello, che bello. Fra Italo, ho visto proprio in questi giorni un trailer sul nuovo film che ci propone un'inedita figura di Maria, chissà che non sarà un film che ci aiuterà a riflettere come il buon cinema sa fare. Non ne so, non ne so nulla, sono curioso un po' sì e un po' no, perché ultimamente il cinema mi sta deludendo tanto. Quindi non diciamo niente e andiamo avanti cercando di capire poi se effettivamente sarà un'opera d'arte o meno. Allora, restiamo invece nel nostro campo, quello della sostenibilità. Settimana scorsa scoprivamo i vari festival che stanno arricchendo il mese di maggio. Vi ricordiamo che sono tuttora in corso il festival itinerante di sviluppo sostenibile dal 7 al 23 maggio. Il festival dell'economia del Sole 24 Ore di cui settimana scorsa sentivamo il direttore. E poi tanti altri eventi qua e là. Tra gli eventi c'è anche una bellissima mostra fotografica in piazza San Pietro. Abbiamo un servizio a cura di Paola Russo per andare a scoprire meglio di cosa si tratta. È stata inaugurata ufficialmente lo scorso 7 maggio in piazza San Pietro, tra le colonne del braccio di Carlo Magno, la mostra fotografica Changes, che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 27 maggio. Nata nell'ambito del progetto Emotions to Generate Change e curata da Lia e Marianna Beltrami, la mostra rappresenta un'interpretazione fotografica del Cantico delle Creature. Da una parte i contrasti degli effetti dei cambiamenti climatici, dall'altro la speranza data dalle emozioni generate dall'opera creatrice di Dio. Ad accompagnare le 24 fotografie, le parole del Cantico delle Creature di San Francesco, con il riferimento all'esortazione apostolica Laudate Deum di Papa Francesco. Con il passare del tempo mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando ad un punto di rottura. Al di là di questa possibilità non c'è dubbio che l'impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di molte persone e famiglie. Ne sentiremo gli effetti in termini di salute, lavoro, accesso alle risorse, abitazioni, migrazioni forzate e in altri ambiti. Le immagini selezionate e accostate al Cantico del poverello di Assisi mostrano un contrasto tra la bellezza e la meraviglia del creato e la distruzione causata dal cambiamento climatico, sia per il nostro ambiente, sia per le popolazioni di tutto il mondo. Allestite su supporti realizzati con il legno recuperato dopo la tempesta Vaya nella provincia autonoma di Trento, le foto provengono dal Borneo, Bangladesh, Togo, Etiopia, Amazzonia, Florida, Grecia, Italia, Islanda, Australia e Turchia. La rassegna fotografica realizzata insieme con il Di Castero per la Comunicazione, in collaborazione con il Di Castero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e il Centro di Alta Formazione, Laudato Si, rappresenta un'esortazione a riflettere sulle azioni da intraprendere per lodare Dio con la stessa forza di San Francesco in un tempo di crisi socio-ecologica. Il nome della rassegna fotografica Change, Cambiamenti, si riferisce sia al cambiamento climatico e sui effetti sempre di maggior impatto sulle vite di tutti noi, sia alla sfida di modificare il nostro punto di vista e le nostre azioni, per poter dire davvero, Laudato Si, o Mio Signore. Molto bello il servizio cura di Paola Russo fra Italo. Molto bello e molto bella anche questa idea di accostare queste immagini, la natura stupenda e poi vedere quanto stride l'azione dell'uomo, soprattutto quando va a rovinare, quindi veramente una iniziativa stupenda perché un'immagine dice veramente più di mille parole. Vero, e quindi appuntamento in Piazza San Pietro fino al 27 di maggio per la mostra fotografica Change. È uno dei modi per acquisire maggiore consapevolezza di quanto sia importante il rispetto per il creato e la sua tutela e senza dubbio l'accostarci alla natura. E noi oggi abbiamo subito un collegamento prezioso con Giovanni Gagliardi dell'impresa sociale Catasta Pollino perché il tema è connettere le comunità con la natura e trarne assolutamente vantaggio. Buongiorno Giovanni, bentrovato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per la disponibilità a questa chiacchierata che sarà breve ma intensa perché ci teniamo a conoscere più da vicino la vostra impresa sociale Catasta Pollino senza dubbio una buona pratica di turismo sostenibile. Quindi a te la parola. Facci sognare Giovanni. Speriamo sia una buona pratica. Noi ce la mettiamo tutta. Siamo una realtà giovane, tre anni, che sta sul Parco Nazionale del Pollino. siamo un visitor center come si chiamano oggi in quei punti di raccordo di tutte le informazioni e le attività che si svolgono sul Parco Nazionale del Pollino e facciamo alcuni servizi giornalieri che sono quelli dell'accoglienza, del punto informazioni, del noleggio biciclete, il ristorante, la libreria, il negozio, insomma una serie di attività però con un unico denominatore comune, quello di valorizzare e raccontare quello che è il patrimonio umano, culturale e sociale del nostro reale. Il nostro è il Parco Nazionale più grande d'Italia, insomma una grande regione, sono 56 comuni su due province, due regioni e quindi cerchiamo insomma di mettere insieme questo racconto e accanto a questo racconto siamo diciamo la nostra vera mission, missione è quella di fare in modo che la destinazione turistica sia sempre più diciamo matura, sempre più connessa e che i produttori, i piccolissimi produttori di enogastronomia, di artigianato, siano sempre più collaborativi in modo da fare progetti comuni, da essere diciamo presentati alle manifestazioni, agli eventi in maniera diciamo unitaria, facendo in modo insomma che venga fuori questo comun denominatore che il Parco Nazionale, è la natura, l'identità e la grande diciamo cultura popolare e materiale di questo territorio. Giovanni, dalle immagini che stiamo vedendo appunto abbiamo l'idea di questa catasta gigantesca, ma è una trovata come dire architettonica o richiama qualche cosa di esistente realmente in natura? Nel senso no? Ti richiama una... Sì, 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 in natura, nel senso natura creata dall'uomo. Esatto, un manufatto, sì. Però diciamo che naturalmente le cataste di legno venivano composte in questo modo. Noi siamo in un punto dove molti anni fa c'era un'azienda che faceva diciamo del sfruttamento nel senso positivo dei boschi, del pollino, un'attività commerciale ed economica diciamo importante, esportava in tutta Italia. Era un'azienda straniera che ha anche contribuito alle connessioni diciamo tra le prime esperienze di sindacato, di stare insieme, al di fuori insomma di alcune dinamiche naturali. E l'architetto che è stato diciamo che ha vinto questo concorso di idee proprio ha voluto riprendere questa catasta e con un escamotaggio ha fatto una catasta vuota dove dentro ci siamo noi e è molto importante insomma ha un'alta 18 metri e profonda 70 e larga oltre 15. Insomma un grande capannone però diciamo anche diciamo interessante. si integra bene nel panorama che vediamo dalle foto ed è sicuramente suggestiva insomma. Fra Italo fa venire voglia di andarla a visitare. Assolutamente sì. Poi vorrei chiedere... Ti aspettiamo, no? Noi facciamo un sacco di attività ora diciamo sta arrivando il momento che stiamo per fare alcune importanti. Facciamo per esempio il Pollino Bike Festival che è una tre giorni dedicata al cicloturismo e anche alla mountain bike agonistica perché c'è una grande gara che compie dieci anni quest'anno sul nostro territorio e sarà una grande festa dedicata agli amatori della bicicletta che sono sempre di più il turismo lento insomma per cui momenti di confronto momenti anche di ludici con concerti, cene... Tra Italo non so tu ma io ho bisogno della bicicletta con pedalata assistita se no non mi muovo. Noi ci possiamo anche provare. Noi abbiamo quasi solo quelle insomma. Ah bene. Anche perché la montagna non è un terreno semplice. Giovanni, volevo chiederti tra le vostre proposte leggevo quelle dell'educazione ambientale che a me sembra molto interessante anche perché riguarda la fascia dei più piccoli credo, ma non solo. Eh sì, noi praticamente abbiamo una collaborazione attiva con i centri di educazione ambientale del territorio e abbiamo proprio sviluppato tre percorsi standard ma che poi vengono poi anche diciamo sartorializzati rispetto all'esigenza delle scuole o dei ragazzi o dei gruppi delle associazioni che ci contattano che ci vengono a trovare e il tema è proprio fargli vivere un'esperienza completa perché all'interno noi abbiamo un'area espositiva con un plastico 3D con una serie di pannelli dei touchscreen però l'attività poi diventa anche molto materiale manuale con degli educatori che aiutano gli studenti o comunque insomma i gruppi di associazioni che sono con noi che vengono da noi a scoprire alcuni temi importanti come la flora la fauna un'altra cosa che abbiamo fatto più volte che funziona molto è l'archeologia quindi l'archeologia sperimentale con i bambini che si coinvolgono a scoprire come si faceva si accendeva il fuoco un tempo insomma l'arco una serie di attività che devo dire insomma stanno molto funzionando e noi insomma stiamo investendo in questa direzione di proposta grazie Giovanni per aver condiviso con noi questa magnifica esperienza di Catasta Pollino sul Parco Nazionale del Pollino in Calabria ovviamente per quanti volessero approfondire senza dubbio c'è il sito ufficiale quindi andate a spulciare e organizzatevi andiamo a conoscere questo esempio virtuoso di impresa sociale che fa cultura anche del turismo sostenibile con tutte queste attività Giovanni grazie davvero per questa testimonianza grazie a voi è stata veramente un'occasione bellissima per noi poterlo raccontare a voi insomma al vostro pubblico alla vostra rete bene allora Fra Italo li salutiamo magari con la promessa di ritrovarci un giorno andiamo ad accatastarci prestissimo molto bene Giovanni allora grazie ancora e buon proseguimento di giornata e buon lavoro a te a tutto il tuo team e arrivederci arrivederci a presto a presto a presto grazie noi restituiamo la linea alla regia ma ci ritroviamo subito insieme restate con noi grazie a tutti i nostri